5, 4, 3, 2, 1, via, 2 più, apre 10, vai 150, ed attenzione, tornate a destra, 1 leva. 5, 4, 3, 2, 1, via, 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 1, via Diventa sempre più difficile potersi mettere in gioco da soli se non si ha un team o comunque un main sponsor particolarmente dotato Eh, di fatti, quello che è venuto a mancare fino a un paio di anni fa avevo un grosso sponsor che mi appoggiava in tutti i campionati adesso purtroppo è venuto a mancare con la crisi ci accontentiamo di fare qualcosa nella speranza che ne arrivi qualcuno nuovo per poter riprendere a pieno ritmo Perché dovrebbero sponsorizzare Francesco Lagana? Eh, diciamo perché c'è un po' di titoli vinti sulle spalle più di una decina a livello nazionale, non parliamo di gare locale questa è vicino, quindi la facciamo così più per un motivo sentimentale che per altro ma di solito sono abituato a correre in tutte le gare d'Italia a partire da Mille Miglia, Targa Florio, eccetera eccetera non mi limito a fare le gare qui in zona Francesco Lagana è la vita, quando non guida che fa? Eh, sono architetto, faccio una libera professione e amo questo sport e cerco di farlo nel miglior modo possibile Non deve essere facile conciliare le cose? No, no, anche essendo libro professionista riesco ad organizzarmi però, insomma, facile non è, ci riesco bene diciamo E la rinnova non la patente? Assolutamente sì, anche perché ancora, meno male, mi riesco a difendere abbastanza bene anche con quelli molto più giovani di me Apre E vai 100 Diventa 5 meno, tieni 60 Attenzione Destra 2 più In sinistra 3 apre Vai 200 Sinistra 5 40 diventa 8 meno lungo Attenzione diventa 3 meno meno In destra 2 più Continua Vallo in México Vallo al máximo Tess Tess Vallo al máximo In México Vallo aloko Vallo al máximo Tess